Dopo una quarantina di parlamentari persi in Italia tra Camera e Senato, il Movimento 5 Stelle inizia a perdere pezzi anche in Europa. Lascia il gruppo grillino a Bruxelles l'euro deputato Marco Affronte, mentre Daniele Aiuto, che era pronta a passare nel gruppo De Verdi come Affronte, ha cambiato idea all'ultimo. Ma almeno altri due eurodeputati sarebbero in bilico. A fronte di eventuali altri uscenti, sbattono la porta dopo il pasticcio che ha portato alla bocciatura della richiesta d'ingresso dei parlamentari 5 Stelle tra i liberali dell'Alde. Dario Tamburrano, autore di un post durissimo contro i vertici, avverte, si faccia chiarezza. Molti attivisti lo ringraziano per aver tenuto duro, ma fonti interna a Bruxelles confermano che anche lui starebbe per confluire nei Verdi. Così come in uscita vengono dati altri eurodeputati in Movimento 5 Stelle, tra cui il lombardo Marco Zanni. L'intero movimento è in subbuio. Ieri con un posto sul blog Beppe Grille e Davide Casaleggio avevano stroncato anche Carlo Sibiglia, già membro del direttorio grillino, colpevole di essersi esposto contro la decisione di rompere il matrimonio con l'ultratesta britannica dell'Ukip. E oggi il leader e l'erede della Casaleggio associati devono fare i conti con queste nuove defezioni.